Una vigilanza privata a presidiare il centro per l'impiego e ulteriori pattuglie che nell'arco della giornata monitorano la struttura di via Pescatori ad Avellino. Nel frattempo, il giorno dopo, l'attentato alla porta squassata dall'esplosione è stata chiusa alla meglio con un pannello giallo e indagano Carabinieri e Digos per risalire agli autori e alla matrice dell'atto intimidatorio. La CGL, dal canto suo, non crede alla pista anarco-insurrezionalista. Io temo che possa essere un mix di situazioni, di persone che drammaticamente non riescono ad avere risposte economico-sociale per vivere e che però sono borderline con pezzi di una criminalità che sa dove trovare gli strumenti e come usarli per intimidire. Quindi penso che bisogna tutti quanti stare attenti, da un lato lo Stato che deve dare risposte sociali, importanti e dall'altro lato tutti quanti noi per riaffermare la socialità e la civiltà. Intanto a Via Pescatori i commercianti della zona ci confessano che in questo periodo sono state tante le persone che si sono lamentate dei disservizi online del centro, costretto dalla pandemia allo smart working, avvalorando così la tesi di un gesto di disperazione di chi si sente abbandonato dallo Stato. Siamo quasi la segreteria del centro per l'impiego, vengono tutti a lamentarsi perché è chiuso e online poi ci sono molte persone anziane o persone che non sanno usare i computer, quindi non sanno usare l'online e hanno problemi. Quindi si lamentano tutti e molte persone vogliono direttamente venire qui, però purtroppo è chiuso. Quindi penso sia un gesto di disperazione, sicuramente, perché sanno tutti disperati. E qui ne vengono tanti e si lamentano tutti.